Ciao amici, buongiorno e buon venerdì a tutti. Dunque, siamo nell'anticamera di un serio peggioramento piuttosto corposo che avverrà tra la giornata di sabato sera e domenica. Si tratta della prima perturbazione con l'annessa depressione atlantica che entra nel Mediterraneo con un aspetto tipicamente autunnale, cosa che non si vedeva da circa due anni. Questa situazione si evolverà naturalmente in un minimo chiuso nel Mediterraneo e darà luogo a diversi giorni in una forte instabilità piovosa. Oggi e domani saranno due giornate di pausa che si concretizzeranno con cieli spesso variabili, nuvolosi, ma anche con buoni spazi soleggiati e con temperature che mediamente saranno tra i 24 e i 25 gradi, ma le minime saranno un po' frizzanti. La situazione cambierà di netto sabato pomeriggio sera quando il fronte avrà già raggiunto naturalmente il nord-ovest e si proporrà le nostre latitudini sulle nostre zone con venti di scirocco piuttosto intensi e piogge diffuse, consistenti ed abbondanti durante tutto l'arco della giornata di domenica. Le nostre zone saranno particolarmente colpite nella notte tra domenica e domenica quando gli apporti più grometri saranno piuttosto consistenti. Ovviamente la situazione, vista la criticità che andrà a luogo, dovrà essere monitorata costantemente anche nei prossimi due giorni. Comunque avremo davanti le prime due giornate autunnali serie e anche molto, molto piovose, come vi ho già detto. I venti saranno disposti nei quadranti sud-orientali e quindi sarà un vento di ponente, di levante, scusate, molto, molto costante. Non mi resta quindi che augurarvi una buona giornata e ci aggiorniamo domani.